Anche oggi come gli altri giorni potete constatare che respiro ancora, ma ho avuto una grande soddisfazione. La soddisfazione è che ho saputo che un ascoltatore ha solo 12 anni e si chiama Francesco Carmellini, l'ho conosciuto giorni fa. Allora a questo ragazzo voglio trasmettere quella che era una tradizione del sabato santo, sabato di Pasqua, di un tempo. Allora il sabato santo una volta era di mattina, cioè il Gloria non era la sera come adesso alle 8 di sera, era alle 9 della mattina. Ed era una cosa molto bella, che com'era la tradizione? La tradizione era che veniva preparato un bracedel, il bracedel era una focaccia rotonda con un buco in mezzo e il vino bianco. Quando suonavano le campane la maggior parte delle persone intingeva nel vino bianco che c'era nel bicchiere due dita, chiudeva gli occhi e si passava sugli occhi un po' di vino bianco e si mangiava il bracedel. Questo però non era una cosa che era nata così, perché se uno mi mette il vino bianco e mangiato il bracedel aveva un suo significato. Allora veniamo alla settimana santa, il significato ve lo spiego adesso. Allora Gesù viene crocifisso, viene crocifisso e muore, ma con la morte di Gesù, di Cristo, non è che muore solo la persona, ma è la vittoria di quelli che erano contro questo Signore, quelli che erano contro Dio, ma anche sulle teorie e quelli che erano le posizioni che lui aveva preso andando in mezzo alla gente. Cioè gli ideali di questo Cristo erano per quell'epoca degli ideali che erano contrari ai principi sia dei Romani che di Erode. Allora la morte di Gesù è stata un dolore per coloro i quali lo consideravano Dio, ma era anche una sconfitta per coloro i quali credevano nell'idea di quel falegname particolare. Il sabato che cosa succede? Succede che la Chiesa naturalmente fa un rito di ressurrezione, risorge il Cristo, ma non è solo la risorta del Cristo, perché per la parte religiosa è indubbiamente la ressurrezione di questo uomo che è Dio, ma anche per coloro i quali non lo consideravano solamente Dio, ma ne avevano molta stima per le sue idee, per quello che lui aveva portato avanti. Nella morte di Cristo morivano, ripeto, gli ideali di Cristo, ma morivano anche quelli che erano state le sue parabole, le parabole che avevano dato un'impronta diversa a quello che era il modo di sentire e di pensare di quell'epoca. Allora alle nove della mattina si scioglievano le campane e le campane suonavano dopo due giorni di silenzio, perché per due giorni le campane erano a lutto. Questo suono delle campane portava una grande gioia e la gente, ripeto, era contenta e si passava sugli occhi. Perché si passava sugli occhi? Perché gli occhi potessero essere puliti dal passato, dalla tristezza e fossero pronti ad aprirsi purificati per gioire e per poter vedere che erano tornate in vita. Non solo era tornato in vita Dio, ma erano tornati in vita quei grandi valori che erano l'amore, la carità, la pietà, l'umiltà, la bontà, il perdono, la misericordia, soprattutto la misericordia. E questa che era stata una sconfitta non è più una sconfitta, ma torna una grande vittoria. Ecco, questo è il vero significato del passarsi il vino bianco sugli occhi chiusi, sulle palpebre. E anche il mangiare la famosa, il famoso dolce che era stato fatto, il cosiddetto bracedel. Ecco, perché? Perché era vita, dava vita, il mangiare pane dolce era energia, vita. Forza per poter andare avanti e protrarre nel futuro quello che nel passato era stato sconfitto e che adesso era tornato a vittoria. Era la mattina. Qui la Chiesa ha commesso un enorme errore. Perché purtroppo nella Chiesa non ci sono dei bravi registi di comunicazione. Ci sono dei uomini di grande fede, ma anziché andare a prendere uno Zeffirelli di turno che è un uomo di fede e far decidere certi riti a un Zeffirelli regista sono fatti da dei sacerdoti che magari sono un po' vecchiotti e non hanno una capacità di comunicazione come oggi con internet e con tutto quello che c'è ci vorrebbe. La mattina. E la mattina era più bello perché adesso facendolo la sera, la sera la gente la va a mangiare, la sera la gente stanca, la gente guarda il telegiornale, la gente alla sera esce, ma volentieri. Allora era molto più bello perché i negozi erano aperti, tutti aperti, allora si usciva dal negozio, si andava dall'altro, Gloria, auguri, Gloria, è rinato, e risorto, c'era una comunicazione e il suono delle campane era così. Ecco questo principio delle campane che suona di mattina ve lo voglio leggere in una poesia, in una poesia, che è stata scritta quando hanno messo, rinnovato le campane di Arco. La poesia dice così, regina del cielo, cantano le novelle campane perché erano campane nuove. Cantano le novelle campane dall'alto dell'allegro campanile e il bel paese fanno palpitare. Vedete il termine palpitare mi piace perché le campane alle volte portano qualcosa di particolare. Allora il bel paese fanno palpitare e lo avvolgono di onde dolci e chiare, quasi getto di perle e di gentile pulviscolo d'oro. E via nel vicino aprile bacia gli ulivi e fanno germinare. Non siate campane con la voce squillante quel che al mondo triste, corona di pace vera, ancora manca. Oh, portatelo a voi e ai nostri cuori dite, con voi sia la pace. Come Cristo quando risorse in mattutini albori, pattutini albori. Allora queste campane che sono state messe a posto nel 1921, subito dopo la guerra, hanno portato il loro suono in principi la mattina, in mattutini albori. Ecco, io credo che le campane quando suonano la sera non portano così. Io vi dirò che sono uno degli ultimi rimasti che aspetto, nonostante a casa mia uno vada da là, magari l'altro vada da là, mi preparo il mio vino bianco e un pezzetto di Brassiadelle e mi passo ancora alla mia tenera età il vino bianco sugli occhi per festeggiare questo grande avvenimento che è la resurrezione di un Dio e anche per chi la pensa diversamente di un grande uomo che ha sacrificato la propria vita per i propri ideali. Un augurio particolare a Francesco e un augurio particolare a sua sorella Federica che così gentilmente mi hanno ascoltato. Buona Pasqua a tutti!